Ciao ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video dove faccio il pagellone di Italia-Bulgaria Italia-Bulgaria che riporto è finita 1-1, però già l'ho commentata ieri subito dopo la partita ho fatto il video, ora però facciamo il pagellone però prima di farlo vi invito a lasciare un bel like, iscrivervi al canale, attivare la campanellina e dai ragazzi arriviamo presto ai 100 iscritti, fatelo anche voi vi invito a farlo anche voi il pagellone qui sotto nei commenti partiamo un po' dal portiere, Donnarumma, Donnarumma sull'occasione del gol lui non poteva fare niente l'errore è partito tutto da Florenzi e Acerbi, loro due hanno fatto gli errori Donnarumma non poteva fare nulla, quindi a Donnarumma gli do un 6 Florenzi, Florenzi gli do un voto negativo perché veramente sul gol è complice lui e Acerbi sono loro i colpevoli e quindi sul gol è colpa di Florenzi e gli do un 5 Bonucci, Bonucci partita secondo me da 6, partita da sufficienza e quindi 6 Acerbi, Acerbi a me ieri non è piaciuto, non è piaciuto come Florenzi quindi gli do lo stesso voto, 5 Emerson partita sufficiente, Barella partita da 6 anche lui Giorginio sempre partita bella, sempre una bellissima partita di Giorginio è il punto di riferimento ormai nel centrocampo di questa nazionale e secondo me Giorginio si merita tutto il 7 Marco Berratti, Marco Berratti secondo me ha fatto una partita da 6 e mezzo quindi 6 e mezzo se lo merita tutto secondo me Berratti è finita la difesa, è finito il portiere, il centrocampo ce l'abbiamo fatto ora l'attacco, l'attacco Chiesa e Immobile in signe partiamo un po' da Chiesa, Chiesa grandissimo gol, grandissima partita anche di Chiesa e secondo me è il voto più alto che do in questo pagellone e Chiesa gli do un 8 Immobile, Immobile, Immobile non c'è niente da fare ragazzi Immobile per me non è adatto per il gioco di Mancini per me Immobile non è adatto per il gioco di Mancini perché Immobile si risulta sempre, non lo so con la Lazio è un altro Immobile con la Lazio è uno che segna proprio a quantità invece con la Nazionale fa fatica a segnare perché non ci vuole nulla a capire Immobile non è adatto per questa Nazionale non è adatto per il gioco di Roberto Mancini è inutile negarlo, ma è così, è così Chiesa e Immobile si ha fatto l'assist, ha fatto questo ma la prestazione a me non è piaciuta però visto che ha fatto l'assist 5.5 Lorenzo in signe, Lorenzo in signe prestazione secondo me sufficiente proprio giusto per la sufficienza in varie occasioni secondo me poteva far meglio anche davanti alla porta poteva far meglio in signe in varie occasioni e invece non è risultato lucido e quindi gli do una sufficienza una sufficienza stentata se guadagnata dal mio pagellone quindi 6 e niente poi i panchinari senza voto semmai Cristante che ha giocato più di mezz'ora e secondo me proprio voto non sufficiente ma negativo veramente se devo votare la Cristante gli devo dare un voto negativo perché quando è entrato quando è entrato non ha fatto un passaggio quando è entrato quando è entrato aveva la palla tra i piedi e aveva la palla tra i piedi ha pensato solo a tirare ha pensato solo a tirare e almeno tirava bene almeno tirava bene no tirava alle stelle tirava alle stelle non lo so non lo so 4 e mezzo a Cristante Pellegrini che voto gli vuoi dare a Pellegrini è entrato negli ultimi 5 minuti che erano poi dei recupero Roberto Mancini ma cosa mi combini si grandissimo allenatore grandissimo allenatore record nessuno sopra di noi record ma non me ne faccio niente di questo record non me ne faccio niente di questo record tu a uno come Lorenzo Pellegrini a uno come 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 Pellegrini non puoi farlo entrare al novantesimo non puoi farlo entrare al novantesimo a uno come Pellegrini che ti può cambiare la partita non lo puoi far entrare al novantesimo minuto no 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 e e niente ragazzi spero che il video vi sia piaciuto lasciate tantissimi like se vi è piaciuto fatelo anche voi il paggellone il paggellone il paggellone qui sotto nei commenti e niente ciao ragazzi grazie a tutti